Buon pomeriggio a tutti i radioascoltatori di Radiopraxis. Oggi, come avete anche visto dal titolo del podcast, insomma della puntata, parleremo della situazione grave nel corno d'Africa per quanto riguarda l'invasione di Locuste. Ci troviamo appunto in Africa o meglio nel corno d'Africa che da secoli è al centro degli interessi delle potenze europee per la posizione strategica tra Mar Rosso e l'Oceano Indiano, poi diventato territorio di contesa tra Stati Uniti e URSS e oggi duramente colpita e percossa da carestie, povertà, conflitti politici, traffico di tutti i tipi e generi e quant'altro. Per quanto riguarda invece la difficile situazione che sta vivendo in questo momento questa parte dell'Africa con le regioni quali il Kenya, l'Etiopia e in realtà anche l'Uganda, dagli ultimi aggiornamenti che era fino comunque a poche settimane fa a rischio, però non ancora totalmente invasa dalle locuste. Quest'invasione ovviamente non è stata improvvisa, non è stata inaspettata, più che altro è stato inaspettato la quantità di questi insetti, di queste locuste, poiché dopo delle forti alluvioni dovute comunque al riscaldamento globale, al surriscaldamento, quindi dopo dei periodi di grandi calure queste alluvioni hanno fatto sì che il clima o comunque l'ambiente fosse totalmente favorevole al proliferare in grandi sciami di questi insetti, di questi coleotteri, che sono tra l'altro molto molto pericolosi non solo per i raccolti ma anche per il bestiame. Inoltre una locusta, il quale peso si aggira intorno ai 70 o comunque 80 grammi, è in grado al giorno di mangiare tanto quanto il suo peso corporeo e comunque c'è da dire che vista il loro gran proliferare e visto che le femmine depongono uova in gran quantità, quindi da 100 a 160 uova circa, le quali si schiudono in due settimane, si creano sciami di enormi, enormi dimensioni. Per cui questa crisi che il paese sta vivendo è la peggiore infestazione in alcune zone degli ultimi 70 anni, in altre negli ultimi 25 e comunque i numeri sono preoccupanti. Come dicono inoltre i dati, ecco, negli ultimi 25 anni in Somalia ed Etiopia e 50 in Kenya e 70 credo in Uganda, dove la popolazione, dato che questo periodo di infestazione è coinciso perfettamente con il periodo della semina, comunque c'è da ripetere, da ricordare che queste sono regioni totalmente colpite da carestia, fame, mancanza di acqua potabile, sul quale punto poi ci soffermeremo un po' meno provando a guardare anche come potrebbe evolversi la situazione nei prossimi anni e dunque per riuscire a sopravvivere la popolazione mangia questi insetti e ovviamente cerca così di in qualche modo sopperire o comunque cibarsi di qualcosa perché questi insetti che girano in appunto sciami da 80 milioni di piccoli individui a chilometro quadro distruggono scusate il 100% del raccolto di queste persone per cui per evitare di non riuscire a sfamarsi le persone le raccolgono, le lavano, le mettono a bollire e solo dopo le friggono tutto questo procedimento perché 2000 soldati sono stati addestrati in questi mesi all'uso delle pompe per poter in qualche modo contrastare anche solo a metà questa invasione. Inoltre in Uganda c'è stata una riunione d'emergenza presieduta dal primo ministro dopo l'inizio di tutta questa crisi anche perché tutto il corno d'Africa ha dichiarato stato di emergenza solo che ovviamente in altre parti come in Kenya si hanno anche se pochi però si hanno mezzi di contrastazione quali dei piccoli aeroplani che spruzzano pesticidi mentre l'Uganda che aveva avviato una trattativa proprio con il Kenya per avere in prestito qualche mezzo per poter insomma contrastare le locuste si è trovata a mani vuote perché appunto il Kenya ovviamente non può prestare qualcosa che sta usando al momento. Anche la Somalia ha dichiarato stato di emergenza e le misure verranno applicate soprattutto nei paesi della zona al confine e per quanto riguarda invece appunto la situazione politica geopolitica e culturale purtroppo come credo sappiamo un po' tutti questa è una regione una delle più povere turbolente e compresse dal punto di vista geopolitico perché appunto i confini e gli interessi i confini gli interessi scusatemi che ci sono sotto legati appunto ai conflitti di confine sono molti. Sono molti e sono legati spesso alla corruzione e la corruzione è legata al cattivo governo e quindi qui stiamo un po' uscendo dagli schemi in realtà del nostro programma però diciamo uno zoom ma credevo credo anzi che sia utile farlo per capire ancor meglio quanto realmente sta soffrendo questa popolazione in questo determinato momento e le cose andranno aggravandosi perché la tensione per l'acqua nei prossimi 50 anni salirà a dismisura perché gli abitanti saliranno a circa 10 miliardi e la domanda quindi per l'acqua impoverirà impoverirà i sistemi di acqua dolce del mondo facendo così ulteriormente aumentare la concorrenza i conflitti e le migrazioni e non oso immaginare per cui come si evolverà la situazione in queste zone e più alluvioni, più alluvioni non è sinonimo di più acqua, tutt'altro le alluvioni con tempo di ritorno pari a 100 anni saranno più frequenti per via delle piogge più intense e i luoghi molto popolosi quali ad esempio l'Asia e l'Africa sono più a rischio ma sono più a rischio come in questo caso sono più a rischio di invasioni di coleotteri, insetti, cavallette, locuste e quant'altro e quindi ci sarà inevitabilmente meno acqua, più dei due terzi dell'acqua, delle acque scusate freatiche al pianeta vengono estratte per l'agricoltura, tra l'altro e interi ecosistemi sono messi a rischio dall'uso sempre maggiore di acqua sottratta alle falde che non hanno il tempo di ricaricarsi quindi è tutto un circolo vizioso che col progredire del tempo potrà solo che peggiorare inoltre il rischio di malattie rischia di crescere con l'espansione dell'areale delle zanzare e intere popolazioni saranno costrette a trasferirsi generando conflitti, ulteriori conflitti direi poi ovviamente abitazioni, strade e ponti si degraderanno più velocemente ma qui stiamo parlando già più dell'area urbana o comunque di ciò che le aree urbane insomma andranno incontro e con cosa dovranno fare poi i conti così ci avviamo verso un futuro comunque con condizioni climatiche senza precedenti in cui quasi certamente emergeranno vulnerabilità non ancora identificate ma che possiamo solo immaginarci ma alcune forse ancora non sappiamo nemmeno quali potrebbero essere e tutto ciò metterà a dura prova il nostro sistema o comunque già fragile di suo quindi fondamentalmente direi che di tanto in tanto bisognerebbe anche dare uno sguardo a ciò che ci circonda dare uno sguardo a ciò che ci sembra così lontano quando in realtà non lo è perché basta dare uno sguardo alla storia, basta dare uno sguardo alla cartina geografica o comunque capire anche i flussi migratori cercare realmente di entrare, dico non propriamente dentro ecco ovviamente non spingersi oltre a ciò che è il limite diciamo giusto però essere leggermente più coscienti di ciò che si ha intorno per cui fondamentalmente la puntata di oggi è un piccolo estratto di uno uno di milioni di problemi che devono quotidianamente affrontare queste zone come l'epidemia debola che è stata veramente presa sotto gamba è stata sottovalutata e comunque sta progredendo comunque queste regioni ne sono state indebolite molto e non ne sono mai uscite del tutto così come tante altre malattie che nei nostri paesi o comunque nelle nostre terre sono state debellate ma lì no e comunque direi che anche il fattore acqua è tutto collegato anche alla deforestazione all'eccessivo consumo di carne da parte nostra nostra intendo l'occidente o comunque dei paesi ricchi quindi il cerchio inevitabilmente si chiude e riconduce sempre a noi che in un certo senso abbiamo le mani macchiate da questi gesti che compiamo quotidianamente però ignari di ciò che potrebbero comportare dall'altro lato del mondo è come il battito delle ali di una farfalla che parte dall'altro capo del mondo mi viene da fare adesso un paragone non molto felice ovviamente vedendo e sapendo la situazione che stiamo vivendo tutti quanti è come il battito di ali di un pipistrello battito di ali di un pipistrello che ha fatto scatenare la pandemia che è attualmente in corso con tanto di conseguenze stessa cosa più o meno in questo caso spero cogliate la metafora quindi questo è quanto so che è una puntata leggermente diversa magari dalle altre perché qui sto riportando notizie che magari sono state sottovalutate anche al Tg perché comunque risalgono a novembre del 2020 e mentre questo problema è iniziato ad insorgere già a fine dicembre 2019 mesi nei quali si è solo previsto in un certo senso che la situazione sarebbe andata solo aggravandosi perché se andate anche a ricercare alcuni articoli molti scienziati esperti hanno previsto diciamo un peggioramento verso la primavera però nulla era ancora certo ma così è stato effettivamente perché appunto grandi sciami hanno comportato grandi danni per via anche del come ho già detto anche prima adesso mi sto ripetendo come dato che appunto coincide quel periodo della semina inoltre c'è stato un episodio questo me lo sono dimenticato di dirvelo un episodio nel quale uno sciame si è andato in collisione ecco comunque a scontrarsi con un aereo passeggeri e entrando in contatto con motore, muso, ale e quant'altro ha costretto quest'aereo addirittura ad atterrare perché non era più possibile proseguire questo per farvi capire la potenza enorme di questi insetti che presi singolarmente si peseranno anche 70 grammi e saranno lunghi 6-8 centimetri però insieme quindi come avevo detto prima tante milioni di esemplari per chilometro quadro sono veramente la devastazione per l'uomo per oggi chiuderei qui ci si risente non la settimana prossima ma quella dopo ancora e credo che da questa puntata in poi con Green Revealing ci risentiremo una volta ogni due settimane e buon pomeriggio grazie a tutti